Torino-Cagliari 1-1, incredibile questa partita che le due squadre stanno finendo in 10 contro 9 per l'espulsione prima di Zaza al 74esimo che manda a quel paese l'arbitro poi per Luca Pellegrini già monito per un intervento, penso che l'arbitro estragga il rosso diretto per un intervento brutto a centrocampo e poi nei minuti di recupero al 96esimo è finale, pareggiano Torino-Cagliari 1-1, nel finale al 96esimo viene espulso anche Barella, Nicolo Barella anche lui già monito, prende il secondo giallo giustamente, anche lui è espulso partita ricca di emozioni, il Torino che passa in vantaggio con un gol di Zaza prima di essere espulso servito benissimo al centro dell'aria da Izzo poi dopo l'espulsione, il Torino prende anche una traversa con Ionita dopo l'espulsione di Zaza c'è la reazione del Cagliari che trova il pareggio di testa col solito Pavoletti lanciato da Birsa è un gol rivisto al VAR per un presunto fuorigioco ma è tutto regolare pareggio alla fine meritato per il Cagliari Torino che dà probabilmente addio agli ultimi sogni di un possibile piazzamento in Champions League dovrà comunque lottare e fare molti altri punti se vuole perlomeno arrivare al stesso posto valido per un posto in Europa League d'altro canto il Cagliari è salvo, tranquillo, sta facendo un bel campionato un po' troppe espulsioni nella seconda partita credo che il Cagliari finisce in 9 quest'anno tredicesimo gol credo, dodicesimo per Pavoletti nono di testa, grandissimo cannoniere di testa uno dei migliori in Europa in questo fondamentale Cagliari comunque sta facendo una buona stagione una squadra che mi piace, è bella da vedere i migliori, Luca Pellegrini aveva fatto un'ottima partita fino alla seconda espulsione, alla seconda munizione all'espulsione anche Barella aveva fatto una buona partita Pavoletti il solito, Cragno, ottimo portiere quindi il Cagliari ha una buona struttura il Torino che era in emergenza là davanti per le assenze di Belotti e Iago Falche si affida a Zaza è che è stato espulso nonostante abbia fatto un gol e verrà squalificato per la prossima giornata quindi un po' accorto là davanti mister Mazzarri comunque è sempre un buon centrocampo per il Torino, credo che è il suo punto di forza con Rincon, Baselli Ansalde ha fatto anch'esso un'ottima partita per adesso è tutto Torino-Cagliari quindi 1-1 espulsi ricordo Zaza Luca Pellegrini e Barella e ci sentiamo dopo per le partite del pomeriggio di Tarino-Cagliari si è un'ottima partita per la prossima partita che un'ottima partita è un'ottima partita